C'ho l'ansia, capite mio, l'ansia, l'ansia, l'ansia Ok, qua è andata il mio gatto, non so per quale motivo, ma mi ha fatto prendere uno spavento assurdo Infatti non so se si vede dal video, ma comunque dettagli Ciao, chi sei? E' un video a caso? Chiara è il nome che è in bioteleo? Non lo so, ma questi video 8, 9, 11, 11, 12, 13, 14, 15 Quindi ti sto riportando i video di 7 ore Siamo fatti con i giusti Sì, perché siamo morti di avere 3 Ok, qua mi era venuto un grambo Che in 10 anni di danza non mi è mai successo Mentre facessi la spaccata che mi venisse un grambo Durante il video, giustamente, sì Spero che io vi abbia, come si dice, vi abbia portato con me Spero che vi abbia portato con me No, stai, voglio dire Spero che abbiate apprezzato Spero che abbiate prestato questo video E che in questo senso abbiate viaggiato con me Stiamo andando? Dove stiamo andando? Qualcuno che mi dice dove andiamo? Ah, caga, com'era? Cimì, 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 cimì Qua c'è comincio In un bese con la cica Sperando che con questa videocamera L'iPhone, se vabbè, il microfono si senda Perché non so se si sende Si sende E non, non barro, non barro Non barro, non barro Mi sa niente Ok, questo è un mio fail Non so per quale motivo io non l'abbia tagliato Ma comunque ok Ciao a tutti Bentvenuti nel mio nuovo video E oggi vi sto portando con me La marcia di mafia di Palermo Mi vergogno a formare che c'è la gente che mi ascolta Copiando per VJ E niente, siamo sull'autobus E quindi, e quindi, e quindi Io sono qui, le sto aspettando Al posto E non c'è nessun altro Non c'è nessun altro E io ho fame Ovviamente devo aspettare gli altri per mangiare Perché si chiama buona educazione Ma sarebbe buona educazione anche venire in orario Che vabbè, sto parlando a casa No, si dice stage e nostalgia No, si dice stage Stiamo andando allo stage di suamattino Si dice stage, non stage Ok, da quando è che non registro un video Non so più parlare davanti da La videocamera dal sole Ma perché mi sento torta? Che poi io dovrei guardare l'obiettivo Non dovrei guardare me stessa che parlo Quindi ho fatto tutto il video sbagliato Eeeh, nulla She's a youtuber She's great Allora, oggi non ho vloggetto per niente Mi sento un... Boh, una vlogger fallita Perciò, vloghiamo un pochino La userò per la prima volta Per il mio viaggio in Lettonia No Per il mio viaggio in Lituania Zia, guarda che ti sto prendendo in giro Ma vai a creare Chiara Ma perchè ma C'è chi? C'è chi si gira Ciao a tutti Buon giorno di sul mio canale Oggi cucineremo i maffi Oggi siamo a Venus Ieri sera non ho chiuso il vlog Perché ero troppo stan Non lo so, seguo la massa Se tutti vanno di là vuol dire che c'è un pochino Vuol dire che stai andando in bagno Ma tu non vuoi andare in bagno con loro Ok Non so se conoscete la storia del Corsaro Corsaro era Sì Dove? Uno Amendo Ciao a tutti Ciao a tutti Questo video è un disagio Ma comunque Dettaglio Oh oh Perché hai rotto Niente Cos'è questo posto? La dentro La nella mia biblioteca Biblioteca Ci sono riuscita Sono sì Mi è riuscito lo slime Un Dos Tres Via Ciao a tutti Ragazzi Questa è bella Questa è bella Mi servono Tre uova Di galline Bello che mi confondo con la parete Bellissimo Nel frattempo Waking start Io gioco sul forno A riscaldare Ancendo con baironi Una batteria a scarico Ah ok Ciao Ciao a tutti Miau 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 Grazie a tutti.